Consolini, ho acquistato un nuovo potere, ora posso scrivere qualunque cosa in questo block notice e magicamente mi compare davanti a me Lo strutterò per conquistare il mondo Non è vero, Steph, stai dicendo fesserie e non è possibile, questa cosa non esiste, non esiste Te la posso dimostrare? Non è vero, sei un bugiato Dimmi una cosa, gliela scrivo qui e compare Allora voglio dei soldi Ok, allora aspetta, eh, soldi Ti è caduto anche il tappo Di Sei davvero ridicolo Guarda, sono comparsi 5 euro Ma quelli non sono soldi, dai Sono 5 euro a fare Ma non fanno apparire 500 Allora dimmi un'altra cosa, dai, dai, vediamo Le cuffie, mi servono le cuffie nuove perché non posso sentire la musica con queste vecchie che ho Allora, cuffie Belle però, è belle, devi scrivere anche belle, è belle 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 per Ferenichi, belle Perfetto Eccole Sei ridico Beh, di fatto, due cose su due che tu hai detto sono comparse, Feren Quindi ho questo meraviglioso potere Ragazzi, come va? Io sono Ferenichi E io sono Stef E che sei che mi ha Scribblenaut? E oggi siamo qui in questo fantastico giochino che ci ha consigliato oltretutto Lion Perché anche lui lo sta portando nel suo canale Ci ha consigliato di farlo Noi l'abbiamo visto, ce ne siamo totalmente innamorati e quindi eccoci qua Esattamente Allora, è bellissimo questo gioco Funziona in questo modo Noi abbiamo un tacchino Quando scriviamo qualcosa in quel tacchino Compare immediatamente qualsiasi cosa Cioè scriviamo elefante e compare un elefante Possiamo creare delle situazioni davvero incredibili E l'unico limite è la nostra fantasia Il gioco Eh, le frasi fighissime qua Per iniziare una serie si inizia col botto Ti faccio anche le frasi filosofiche Non arrenderti mai nella vita Con solini L'unico limite Perché quando c'è la speranza ci può essere qualsiasi cosa È la vostra fantasia Questo scrivetevelo nel diario di scuola Perché davvero Adesso lo faranno Adesso lo faranno E voglio le foto Voglio le foto Con la citazione di Steph Comunque dicevo Il gioco è abbastanza vecchiotto del 2011 Però appunto che è un gioco molto creativo e molto fantasioso Secondo me è sempre nuovo Nel senso che ogni volta che qualcuno lo fa è diverso E quindi è molto simpatico e molto figo Quindi proviamo a portarlo anche noi Speriamo che vi piacerà E direi che possiamo iniziare Allora Quando noi attiviamo questo Vediamo le persone che hanno bisogno diciamo di una mano Di felicità Di felicità Quando noi gli diamo felicità acquisiamo una stellina Ogni volta che noi prendiamo una stellina Aggiungiamo diciamo un po' di bene Per curare la maledizione della nostra amata sorellina Che è stata maledetta da un vecchietto Perché abbiamo fatto uno scherzo a un vecchietto Si è arrabbiato Si è arrabbiato E ha fatto una maledizione a nostra sorella Esatto e lei poverina in questo momento si sta trasformando in pietra Esatto Aspetta Oddio Si sta divertendo Si sta divertendo Ti ho fatto divertire Ti stavo per dire Non mi sembra il modo adatto per farlo divertire Perché ho detto Cavolo magari si spavano È comparso un circo intero Oh mio dio Però almeno l'abbiamo reso felice Siamo felicissimi anche noi Non ho ben capito perché Con questo dinosauro è comparsa quella gente Però ci siamo tutti divertiti Siamo tutti felici E quindi va bene così Ho notato che questo scarafaggino Ci sta seguendo da due ore Quindi adesso voglio provare Aspetta accarezzalo No Voglio provare una cosa Allora Se io cambio l'aggettivo E metto gigante E adesso lo possiamo cavalcare come il dinosauro? No Ah si Ciao Ferre Io direi Mi è venuta l'idea del secolo Dimmi Ferre Noi andiamo in giro per la città Al posto dei veicoli Noi andiamo in giro con il nostro scarafaggio Va bene Ferre Dovremmo dargli anche un nome Te lo dico Guarda Sa anche saltare Come si fa ad entrare in questo posto? Ah da qua Penso alla freccetta Sì Allora Santo Asterisco Ok andiamo Andiamo a vedere Ma stiamo entrando in un ospedale Un po' Benvenuta a Santo Asterisco Ok Ok Allora qua è pieno di gente da far divertire Secondo me Da aiutare Ci sono un sacco di problemi Allora buongiorno 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 Signorina Che ha bisogno? Che ha bisogno? Crea qualcosa Per aiutarmi a eseguire l'operazione Ok Proviamo con una siringa Siringa oppure i bisturi Si opera con i bisturi No? Tenga signorina Ok Lo utilizzi Ok Ok Brava È bastata la siringa Adesso lui sta bellissimo Oh yes Ma che è il nostro fratello È il nostro fratello Campo Volendo possiamo andare al piano di sopra Ma voglio controllare Perché questa signorina Perché ha una stellina blu? Ha una stella blu che è diversa Aiuta i pazienti che arrivano all'ospedale Sì Se ci sta proprio dando un lavoro Sì Dai passiamolo Vai Andiamo Perché no Dottore in servizio Inizia Ok Il nostro primo giorno in ospedale Guardaci Tutti preparati per lavorare Aiuta i pazienti Trasportati all'ospedale Santo Asterisco Ok Allora Quindi Vai ambulanza Vai a prendere persone Ma che bello gattino Gattino ammalato Allora Lo carezziamo un pochettino Questo micino sta da cani Crea qualcosa per curarlo Allora Antibiotico Antibiotico Sto andando su cose molto classiche Però l'antibiotico Ha funzionato? Sta benissimo Yeee Che bello sto gioco Ok arriva qualcun altro Arriva qualcun altro Chi c'è Che cos'è? Allora Spazzolino Del tifricio Ok Allora Provo con spazzolino Dentifricio 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 Ok Secondo me non è la Vai Punisci Ha funzionato La storia incompleta Dov'è l'ultimo capitolo? Allora qua ci serve subito Una penna E finiamo la storia Allora Immediatamente Penna 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 Strumento Ok Sì è giusto Sì è proprio questa E abbiamo fatto il libro Che bellina Ma un paziente normale Ce lo danno O in un ospedale Solo di cose strane Anche se mi piace così Eh pure la macchina Sembra che qualcosa Sia rotto sotto il cofano Ehm Il cacciavite va bene No Mmm Allora Cattorcio fumante Inutile Ma poverino Come descrizione Cosa serve per aggiustare Una macchina? Cosa può essere utile? Tipo delle Io stavo pensando Al cambiare l'olio Però forse non basta No No Ehm Motore Motore nuovo Vediamo Direttamente Così Allora aspetta Mi sa che sta funzionando Siamo bravissimi Siamo davvero bravissimi Ottimo Fenomeni Fenomeni assoluti E ci siamo beccati La stellina Perché siamo riusciti A curare tutti i pazienti Che ci ha portato L'ambulanza Oh c'è un pagliaccino Ciao E ride Pagliaccio Aiutami a ridere di nuovo Ok Ti facciamo Allora Scherzo Vediamo se c'è qualcosa Con lo scherzo Ehm No Non penso che puoi fare azioni Ma solo oggetti Allora Quindi tipo Come si può chiamare Tipo il fiore che spruzza l'acqua Ce le presenta qualcosa Fiore che spruzza l'acqua Ho cambiato aggettivo Gli ho scritto divertito E ho risolto tutto Esattamente cosa sta succedendo Allora Cos'è questa cosa Che insegue la povera infermiera Cosa sta succedendo qui Allora Arresta l'attacco cardiaco C'è un cuore che la sta attaccando L'attacco cardiaco Ci devono essere anche le freddure nel gioco Nessuno mi aveva avvisato Queste sono peggio di quelle Allora Ho un'idea Ho un'idea Mettiamo lo stop Che stop? Questo Manette Manette secondo me Aspetta Attacca Ma no Non lo dobbiamo Vai Ma no Lo stiamo facendo È diventato un combattimento No non puoi picchiarlo Certo Vale Ha funzionato Io volevo mettergli le manette Arresta Capito Ho detto Usiamo i giochi di parole No Rettissimi come il gioco Dovevamo combattere L'ho preso a colpi di stop Mi sembra la cosa da tutti i giorni Allora qua dopo di che Ho bisogno del dottore Per curare questo qua Ho bisogno Di nuove Apparecchiature per l'ospedale Ok Tipo Eh Cosa può essere Un Non lo so Cosa c'è Di apparecchiature Eh che ne so Quello è il problema Non lo so neanche Radiografia Vai Radiografia Eh ma ci vorrebbe la macchina Per la radiografia Tieni Apparecchiatura obsoleta Ha funzionato Adesso c'è pure un re Che ci fa un re qui È venuto a riprendere Il suo cavaliere Credo Ah ecco Qua abbiamo Una signorina E un pellicano Io do la priorità al pellicano O gabbiano Non so Allora è una cicogna Non ricordo più cosa devo consegnare Puoi aiutarmi? Certo Un bambino Le cicogne non consegnano i bambini Scusami Bambino Un bambino Ma secondo me è un po' inquietante Bambino neonato Neonato Ok Tiotto Vai Consegna Se la porta via Ha funzionato È la cosa più bella del mondo Ha funzionato Ha funzionato Oh mamma mia Mi sto uccidendo Cioè davvero tutto quello che pensi Tu puoi fare Te l'ho detto Ai limiti dell'indecenza Io ti ho detto L'unico limite è la fantasia Mi hai preso in giro Ma è così Allora signorina Lei cosa vorrebbe? Ho dimenticato Ciò che devo consegnare Al trapianto Trapiantato Trapiantato Allora io la sto in mezzo Quindi è un po' difficile leggere Allora è un paramedico Quindi cosa potrebbe consegnare A una persona Che si è appena operata Un cuore No dai Organo interno Ma perché un cuore? Ha funzionato L'ha messo Era proprio la scatola classica Da cuore La scatola sì Con il ghiaccio Per conservare gli organi Ci sono cose un po' strane Aspetta Abbiamo completato il livello Ottimo lavoro Ve l'ha fatto lì Da lì lì per sbloccare Noi livelli No vabbè Abbiamo completato Penso l'ospedale Però in città Secondo me ci sono Anche posti Credo anche io Guarda però Li stiamo portando una stellina Questa quella È la nostra stellina Appunto ammalata Come vedete Ha già un piede pietrificato Poverina Si sta sempre pietrificando Cosa ci ha dato? Un mondo Un mondo Perché ci ha portato in un'altra zona Ah ecco No non è triste No guarda per l'altro piede Sta peggiorando Fere Sta peggiorando Allora possiamo scegliere Noi dove andare? Eh a quanto pare sì A quanto pare sì C'è anche un ristorante Voglio andare La caserma dei pompieri Linea di sotto Che questo è abbastanza piccolino È la metropolitana quello Esatto Poi c'è la scuola a Calamaio E il ristorante Il Punto E c'è pure questo La capitale Beh noi eravamo alla capitale Torniamo un attimo lì Sì vediamo un po' cosa ci è rimasto Comunque abbiamo fatto appunto l'ospedale Ma non abbiamo fatto la città in sé E guarda Uno di otto Abbiamo fatto solo lui Abbiamo fatto solo lui Allora andiamo di qua C'è una macchina rotta Oltre al nostro bellissimo scarafaggio Vediamo un pochettino È che ancora lì che ci aspetta Ho parcheggiato dove non dovrei Ok Carro attrezzi la spostiamo Vai mi piace Carro attrezzi la spostiamo Carro È tutto attaccato? No Carro attrezzi staccato Vabbè Tanto male che vada me lo corregge Ok Usa questo comando per collegare più oggetti Oh Vai Aspetta Devi agganciare Devi agganciare la catena sicuramente Così? Sì e la spostiamo Aspetta Ferre No 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 è sbagliato Cosa Poverino Perché lo stiamo maltrattando così? Ferre io volevo agganciare la macchina Si è messo in mezzo Io ho degli scarafaggi Ma in questo gioco è troppo carico Allora andiamo andiamo Forza ci pensiamo noi Circolare Circolare Sistemiamo la macchina Hai visto il poliziotto? Sì Ma si è arrabbiato? Ah ci hanno dato una multa Ma noi Ha tirato una multa Ferre Ha tirato una multa Aspetta Aspetta un attimo Scusi Cos'è sta storia? Noi le abbiamo dato una mano eh Allora Guardia di sicurezza Hai proprio la multa Secondo me gliela devi ridare O qualcosa del genere Raccogli Tenga se la riprenda Noi l'abbiamo spostato Te la lancio No Scusi 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 Perché l'hai fatto arrabbiare? Perché Mamma mia Non me l'ha venuta Non me l'ha venuta No calmala Calmala ti prego Perché qualcuno ha pasticciato il muro Con i graffiti E credo che dobbiamo cancellarli O qualcosa del genere Allora dice Così brutto E se noi aggiungiamo Bellissimo No secondo me no Vediamo Non non è cambiato nulla Non è cambiato No No lo dobbiamo sicuramente Togliere Togliere suppongo Allora Proviamo con una gomma Gomma Materiale Materiale Ok No Una spugna 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 Senza 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 Spugna Vai Materiale Esiste una spugna pianta? Evidentemente si Usa E guarda che bello E vabbè ma com'è possibile? Artista metropolitana Yeah Abbiamo fatto un'altra cosa Ok Adesso voglio parlare con lui Che è un supereroe Perché sta volando Allora Metti qualcuno Nella cabina telefonica Per farne Un mio aiutante Ok Questo è l'aiutante Perfetto Per il superman Secondo me no Esplode E fa un disastro No 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 Solo se facciamo usa Secondo me esplode Acarezzalo un attimo Ti prego Voglio vedere cosa succede Se lo accarezzi Ok Acarezza E' contento E' felice Ti odio Te l'ho detto Che non era il caso Di mettere un creeper Mi hai fatto A carezza Voglio vedere cosa succede E' esploso lo stesso Dai mettiamoli un eroe serio Allora Ok Come deve essere il nostro eroe Descriviamolo Mettiamo Batman Facciamo superman with Batman No non possiamo mettere le cose Le cose così Secondo me Perché? Perché non si può Sì Qualunque cosa Tu immagini la puoi fare Fede Batman Secondo me non andranno mai d'accordo Vabbè proviamo a metterlo Nella cabina Scusa Vai qui dentro Ok Amico Vieni vieni a vedere Vieni a vedere C'è Batman nella cabina Vai Vieni vieni però Seguici Secondo me non funziona Uomo forzuto E' pure alto Oddio Ha funzionato E' diventato supermane Però ha funzionato con Batman E' un uccello No Vieni ci sono entrambi C'è anche Batman che corre Ma Batman secondo me è rimasto lì in giro e basta Vedi sì Lasciamolo per la città Vai vai Batman Resta lì Perché praticamente come tu hai messo il nuovo supereroe Lui è uscito fuori dalla cabina E' successo questo Ok Ok Allora qua invece Crea una nuova fontana Metti un oggetto nell'acqua vicino all'interruttore E quindi premilo Cascata Una cascata Una cascata si potrebbe fare Vabbè E poi c'è sia E' troppo grande No E vabbè magari metti cascata piccola La rimpiccioliamo Capito? No sei un genio Opla Che bello Interagisci No vabbè No vabbè No è il gioco più bello del mondo Cioè Ha funzionato Cioè pensa che io non sapevo neanche se avrebbe funzionato o meno Puoi sparare tutto quello che vuoi Guarda Guarda ce l'abbiamo fatta Guarda le monetine Le persone tutte felici No sono tutti felicissimi Sì sì Sono tutti felicissimi Stiamo migliorando la città Smettila 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 In ogni caso ci fermiamo così per questo video Allora Mi raccomando Tanti likes Tanti commenti E sondaggio Per farci sapere Se volete vedere questa serie Io spero di sì Perché secondo me È bellissima È molto divertente Affiancata a Scrap Mechanic Come due nuove serie nel canale Secondo me ci stanno da dio Quindi speriamo che vi piaccia tanto 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 Così lo continuiamo a portare E continuiamo questa serie fantastica Prossimo episodio Magari andiamo tipo nella scuola O a lavorare nel fast food Io voglio andare nel museo di dinosauri Museo di dinosauri C'è tanta roba figa da provare E non vediamo l'ora Quindi ci fermiamo così per questo video Supportate la serie Se la volete vedere a continuare E ci vediamo domani Bene che siete asciusi Se ci siete Se siete un like E se è la prima volta Che in tutto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!